E' crollata questa mattina una parte della cavalcavia 25 aprile verso le 7. Sono subito intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale che hanno messo in sicurezza e recintato la zona. Durante il crollo è rimasto coinvolto un automobilista, è uscito il 118, le sue condizioni sembrerebbero non destare preoccupazioni. La parte crollata è quella che rimane vicino al campo da calcio. Siamo qui con la nostra collega Monica Curino che ha seguito fino ai primi momenti la vicenda. Monica, qual è la situazione più dettagliatamente? Ma il cavalcavia resta ancora ovviamente chiuso perché il danno è abbastanza significativo, lo vedrete dalle immagini. Per chi dovrebbe passare o in zona si consigliano ingressi a Novara da corso della Vittoria e corso 23 marzo perché l'ingresso dal 25 aprile, quindi dalla zona di Trecate, è al momento chiuso. Invitiamo i nostri lettori a seguirci sul prossimo numero dove sicuramente ci saranno ulteriori dettagli. Sì, vi faremo un approfondimento. Una buona giornata a tutti. Buona giornata a tutti, buona domenica. Grazie. 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 Grazie.